E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, devastate di mi piace questo video, guardatevi tutti i video fatti, sia il commento alla partita di ieri che è stato veramente, ve lo dico da solo, esaustivo ed efficace, guardatevi tutti i video di calcio a mercato su tutte le squadre fatte, seguite Surfasport su Instagram, vi lascio in descrizione quando uscirà il mio articolo su fiorentina.it inerente sottile, la partita di ieri è il mercato, andate a vederlo, assieme anche alla comparazione voti di tutti i quotidiani, il servizio che vi offre fiorentina.it molto utile dopo le partite, e attenzione signori, ore 20, vi droppo il video con analisi pronosti e assistenza fante calci per quel che riguarda la seconda giornata di Serie A. Bene, iniziamo, oggi focus su due squadre, fiorentina e inter, che devo sentenziare, allora torniamo un attimo sulla partita di ieri, sì, le sensazioni sono quelle che vi ho detto nel post partita, principalmente spiace per il secondo tempo perché vedo un po' di condizione atletica carente, nel senso che probabilmente si è fatto una preparazione un po' più pesante in vista della particolarità della stagione che affrontiamo quest'anno, ad una certa vedi giocatori abbastanza madi, dissudati, che fanno fatica a stare dietro, che calano un po' di condizione, che tentano di gestire senza molta efficacia, lì c'è da interrogarsi se questo ti fa perdere, magari se ti ha fatto perdere l'ucidità per le prime uscite, però speriamo che questo sia aggirabile. Ecco, io per la partita di giovedì mi auguro principalmente tre cose, cioè quella di recuperare un po', ragazzi, di mettere condizione sulle gambe, di aumentare la confidenza col campo, con i ritmi delle gare della stagione, recuperare qualche titolare, perché ieri era anche una formazione non totalmente titolare, per usare un eufemismo, e anche che il mercato ci possa dar una mano. Ecco, io leggo che la trattativa per Barak sta andando avanti, sarebbe una bella cosa, come anche ho scritto sull'articolo, riuscire a presentarsi ad inscede con il buon Tonin nelle mezzali, perché daresti anche un segnale di fomento, daresti tutto quello che Barak a questa squadra può portare, imprevedibilità, numeri, leverage, esperienza europea, a quelle cifre lì, ragazzi, non starei neanche tanto a parlamentare. Cioè, Barak a 14-15 milioni, per me è un affare che va colto al volo in questo momento, nel quale magari il Napoli ha già preso, le altre sono impegnate o non hanno soldi, ma portati a casa Tonin senza fare troppo la bocca buona. Ho visto Coach Q che ha detto, sì, Fiorentina, ma io sono, penso che non sia un pass, ma chi ti vuole? Ma chi ti vuole? Ma chi ti ci dice? Ma chi ti ci vuole? Come dicevano in tre uomini in una gamba, no? Ma io voglio Tonin, dateci Tonin, gasateci con Tonin, speriamo che questa cosa venga portata a termine il prima possibile. Non sarebbe male magari andare a Denshade con lui nelle mezzali. Bayrami, sì, buon giocatore, ma se io posso prendermi Tonin. Spero che la società abbia capito che se c'è l'opportunità di prendere un Tonin va colto al volo e secondo me ci siamo. Per quel che riguarda i giocatori, sì, sulle valutazioni siamo d'accordo. Grande, sottile, ho visto voti bassi, soprattutto Anastasi, c'è Icone. Icone, ragazzi, cosa volete che vi dica? Sento però anche qui, oh, siamo passati. Quando è arrivato, figa, sembrava avessimo preso un bapè. Adesso si legge, ha problemi, va ceduto, è un pacco, qualche via di mezzo esiste anche. Cioè l'abbiamo preso, si farà questa stagione con noi. Lo valuteremo cammin facendo, nel mezzo di cammin di nostra vita, nel mezzo di Tonin di nostra vita, ok? Lo valuteremo. Ad oggi, sottili, io vi ho sempre detto, quando mi chiedono cosa penso di Nico Gonzales, Icone e Saponara, io rispondo Riccardo Sottil. Però, insomma, non è che dobbiamo buttare nell'uamaro gli altri. Icone, sì, preoccupa un po' perché lo vedo... Quello che un po' mi stona, non è che... Cioè, se facesse fatica ma si capisse il ruolo e se ti desse l'impressione di aver capito il suo spazio e il suo ruolo, sarebbe diverso. Qui vedo un giocatore molto estraneo che quasi che giocasse con la testa e i ritmi di un'altra squadra innestato nella manovra di italiano, capito? Molto esterno, molto... Sembra che voglia uscire con dei numeri individuali da una difficoltà nella quale non riesce a uscire inserendosi nella manovra di gruppo. Mi sembra che ci sia abbastanza lavoro da fare, soprattutto tattico. Non è solo una cosa personale con lui, mi sembra sia anche tattica. Quindi, oh, vedremo, vedremo... Intanto godiamoci sto Sottil, ha maggior ragione. Poi Icone comunque non va cestinato, non va bollato come pacco e via dicendo. Spezzo una prece, confermando tutte le valutazioni che ho detto ieri sugli altri, sui due giocatori. Maleo, visto che è stato criticato, ma in realtà secondo me non ha fatto una partita negativa. Io Maleo comunque non ho apprezzato l'intensità, per certi tratti è stato un motorino. Certo, fai sempre fatica a capire fino in fondo che tipo di ruolo abbia, che tipo di finalità abbia il suo gioco, che tipo di posizione ricopra a livello tattico. Però ci ho visto del fomento, ci ho visto della carica, ci ho visto dell'elettricità, del pressing anche, no? Poi certi appoggi sbagliati, per carità, ma non così negativo. L'ho visto molto peggio con la Cremonese nelle precedenti uscite. Paradossalmente mi è piaciuto meno Duncan di lui. Duncan abbastanza spesato, abbastanza annebbiato. Quindi questo dico. Spezzo anche un'altra prece su Cabral, che ieri ha fatto veramente un bel gesto, lasciando stare il discorso tecnico, tattico, come ha giocato o no. Però un giocatore che era atteso, che è atteso, che ha fatto una seconda parte di stagione l'anno scorso, meh, che gli è stato preso Jovic davanti, che tutti lo aspettavano un po' al Varco, segna un gol dopo tanto, un gol in una partita importante, e vada sottile a fargli così, come a dire, è tuo il gol, perché l'hai fatto tu. L'ho veramente apprezzato tanto, l'ho apprezzato tanto a livello umano, e mi ha guadagnato veramente tanti punti questa cosa, perché non so in quanti l'avrebbero fatto. Dopo tante pressioni, tante discussioni su Jovic, lui, l'investimento, la Svizzera, ha segnato e vada sottile e gli dice, questo è un tuo gol, veramente a livello umano un moncherie. Quindi l'ho veramente tanto apprezzato, l'ho veramente tanto apprezzato. Un applauso a Cabral, proprio dal punto di vista umano. Per il resto, ripeto, cerchiamo di mettere condizione, cerchiamo di recuperare qualche titolare, teniamoci i lati positivi e cerchiamo di recuperare la condizione e cerchiamo di chiudere sul mercato. Sarebbe bellissimo, lo dico alla società, chiudere per Barak adesso, questi giorni, entro il weekend. Sento, ho letto adesso, perché per Barak dopo l'Europa si chiuderà. Andiamoci adesso, sarebbe bello andare giovedì. Magari, se non con Barak in campo, che sarebbe il non plus ultra, quantomeno con l'idea di dire, c'ho anche Barak, penso che ne guadagneresti anche in fomento. Anche perché le cifre, voglio dire, cioè non è che devi limare una richiesta di 30 milioni. Se si sta lì a parlare di 15, ma il giocatore li vale, ragazzi. Ha fatto 10 gol nell'Elas Verona, 3 assist, 10 gol nell'Elas Verona l'anno scorso, l'hanno prima giocato bene altrettanto. Cioè è uno dei giocatori più incisivi, uno dei fattori più determinanti delle ultime due Serie A. Barak è una delle squadre che ha fatto meglio, esperienza internazionale, esperienza in Serie A, d'utilità, vista sulla porta, capacità di saltare le linee. Anzi, c'è anche quell'esperienza europea che in una gara come il ritorno che ci sarà in Olanda ti può essere utile, vai con un nazionale cieco in campo. Quindi cercherei di chiudere. Ad Empoli, vi dico la verità, andrei abbastanza con le palle in mano, non dico che devi andare lì fregandotene, devi andare lì comunque sì per vincere, ma andrei soprattutto per non perdere, vi dico la verità. O meglio, non è che i giocatori devono entrare in campo per pareggiare. Però diciamo che se dovessimo pareggiare non è che mi strapperei le vesti, faremo comunque un upgrade rispetto alla scorsa stagione in cui abbiamo perso e farei delle scelte volte soprattutto al ritorno in Olanda perché è una partita troppo importante per noi e quindi farei delle scelte orientate a questo. Insomma, ecco, può essere una buona occasione paradossalmente per riproporre in campo Iconè dall'inizio perché Sottile ha giocato titolare con la Cremonesa, ha giocato titolare ieri, è giovane per carità, è un fisico esplosivo, però insomma va anche un attimo, va anche un attimo secondo me preservato, conservato un tantino e quindi Iconè dagli una chance dall'inizio non sarebbe male, non sarebbe. Quindi farei delle scelte di formazione orientate poi a giovedì. Poi il piglio deve essere quello di voler vincere sempre, di voler fare, però insomma credo che tutti la testa ce l'abbiamo già a giovedì. Aggiungo anche un'altra cosa, non ho capito se il gol fosse in fuorigioco perché se era in fuorigioco aiutatemi voi se avete delle cam particolari, se avete delle cam private. Comunque è una vergogna che la terza competizione continentale non abbia il VAR a questi livelli anche perché non è che stai giocando, voglio dire, tra la quarta del campionato bulgaro e la sest'ultima del campionato islandese, cioè era comunque una sfida tra la settima del campionato italiano e la quarta del campionato olandese, a certi livelli un cazzo di VAR me lo puoi anche piazzare, no? Cioè magari adesso si scopre che il gol era irregolare e magari ci ritroviamo ad uscire perché non c'era il VAR che ha annullato un gol irregolare. Cioè pensate, fermati un secondo e pensa. Vabbè, comunque ditemi anche la vostra su Fiorentina, gol, sottili, con E, aspetto commenti da voi a 360 gradi e vi rispondo volentieri. Passo all'Inter per dire due o tre cose. Allora, Cialoba, Cialoba sarebbe un buon colpo, mi piace, ce lo vedo all'Inter, saprebbe di Trap, saprebbe di Mario Winans, capito? Darebbe quelle vibe lì, molto mi piace l'ipotesi Cialoba all'Inter, però devo anche petare, permettetemi di petare, no? Perché poi spesso quando parli di calciomercato Inter, la sensazione che ti resta è quella di dire è o c'è di giovani tipo Casadei, Pinamonti, o c'è di top player. Si è poco recepita la via mediana che io inizio a predicare 7-8 mesi fa. Cioè, voglio dire, ma gente come Cialanoglu e Danfries, perché non è vendibile? Perché nessuno parla di un Cialanoglu? Non si parla di un Cialanoglu che se tu passavi al 3-4-2-1, ok? Come si è visto a Lecce, in cui quando l'hai fatto hai rischiato oltretutto poco. Se tu nei tre quarti di partita facevi un 3-4-2-1 con Barella-Brozovic e Cialanoglu non diventava più fondamentale, ammesso e non concesso che ora lo sia, perché a me il giocatore oltretutto non fa neanche impazzire, anzi, l'hai preso a zero, ha uno stipendio alto. Io credo che nel momento in cui l'Inter lo mette sul mercato, squadre come Bayern-Monaco che vanno alla ricerca di una riserva, idem Real Madrid-Barcellona, o squadre magari come Everton, come Nottingham che possono essere interessate a spendere, investire, un interesse al giocatore ce lo buttano. Magari non ci fai 40 milioni, ma un 17-18 liberandoti dell'ingaggio penso tu li possa fare. E siamo quasi alla cifra che hai ottenuto vendendo Casa Day, che è un'operazione che una grande squadra non fa mai, perché una grande squadra non vende i suoi giovani così. E fidatevi che molti dicono, hai venduto Casa Day a 15-20 milioni e hai fatto un affare. No, io mi interrogerei sul contrario. Perché il Chelsea spende quindi, che non è la prima squadra uscita al mondo, che è una squadra che di giovani, di academy se ne intende, perché spende 20 milioni per un giovane uscito dalla primavera? Evidentemente qualche qualità il giocatore ce l'ha, no? Non mi sembra un'operazione da grande squadra. Così come è criticabile l'operazione Pinamonti. Io gli avrei dato molta più fiducia, gli avresti fatto anche molti più soldi, dandogli fiducia a Pinamonti, facendone anche la punta di riferimento, sì, della tua Inter. Lo ribadisco e lo ripeto. Ed è paradossale che non faccia queste cose una società che ha problemi economici, da come ci raccontano, che ha bisogno di fare plus valenze, di puntare sui giovani. E ripeto, Cialanoglu non poteva essere messo sul mercato, anche se il mister avesse avuto un po' più di coraggio. Lo chiedo, è una domanda che faccio a voi, voglio anche la vostra. Ma lo stesso Danfri, cioè leggo Danfri si rinunciabile, dico, ma come rinunciabile? Ma se mi offrono 30-40 milioni per Danfri, ma io me l'ho pranotto io, EasyJet. Buon giocatore, per carità, ho fatto anch'io il video quando è arrivato, dicendo, ma chi mi chi, per ridere, scherzare. Buon giocatore, ma voglio dire, putto a caso che c'è di Danfri, puoi far giocare Darmian a destra e Gossens a sinistra, o Darmian di Marco, oppure se avessi un mister più coraggioso, potresti fare Gossens a destra e dall'altra parte di Marco, se hai bisogno di attaccare e anche offenderlo. Non è una cosa irrinunciabile. Oppure potevi vedere se sul mercato c'hai anche Bellanova, che hai preso per qualcosa, voglio credere, no? Perché non si va mai a parlare dell'accedibilità dei giocatori facenti parte della classe media dell'Inter. Perché non si è pensato all'accessione di un Cialanoglu, per esempio, o a un approfondimento della questione dello stesso Danfri? Si resta sempre a metà, o c'è di top player, o c'è di giovani, capito? Scialacquando, magari poi leggi i post, ma l'Inter sui giovani ci punta perché dalla primavera escono, vengono venduti. Ma la primavera non ha l'obiettivo, l'obiettivo della primavera non è quello di vincere trofei, è quello di fornire giovani che poi possano fare un surplus alla prima squadra. È vero che li vendi e prendi soldi, però raramente vedi giocatori della primavera avere grande futuro nell'Inter. Ed è un paradosso, specialmente contando la situazione in cui è l'Inter. Se io fossi interista all'operazione Casa Dei, non mi andrebbe molto giù. Perché voglio dire, ma perché non si poteva far spazio con qualcun altro e tenerci questo, che se il Chelsea ci ha speso 20 milioni, evidentemente qualcosa varrà? Perché non si è mai puntato su un pinamonte? Poi senti il tifosame, direi, ma noi non possiamo aspettare la gente, ci servono i campioni, così va bene, ma poi non vi lamentate se non riuscite a fare le plusvalenze, dovete cedere i top player, se gente come Skriniar e via dicendo non viene più fuori, perché non si ha più quella logica dell'andare a cercare i giovani a dargli fiducia, o se andando avanti a prendere svincolati, poi si rompono, chiedono le buone uscite e bloccano i mercati. Perché tutto ha un prezzo, tutto ha un costo e tutti i nodi vengono al pettine. Tutti i nodi vengono al pettine. In ogni caso, ripeto, se i tre dell'Inter discussi sono Acerbi, Cialobà e Akanji, Cialobà è quello che mi fomenta di più. Akanji è il classico not bad, Acerbi veramente a berci, stendo un velo pietoso, non tanto perché sia scarso, ma perché sarebbe l'ennesima operazione con vista forse neanche presente, con vista passato. Hai un gran futuro. Ecco, se uno vuole racchiudere il calciomercato di Inter e Juve in una citazione rep, hai un gran futuro alle spalle. Ok? Quella dei club dog in spacco tutto. La sensazione purtroppo che mi resta è questa. Ditemi anche la vostra. Ditemi anche la vostra. Ditemi anche la vostra. Un caro saluto.